Buongiorno bambini, oggi inizieremo leggendo bene la regola della città del 10. Nel paese del 10 non possono circolare più di 9 veicoli dello stesso tipo. Quando arriva il decimo veicolo dello stesso tipo, questi 10 vengono caricati su un veicolo più grande. Allora, non possono circolare più di 9 automobili, arriva la decima, tutte e 10 vengono caricate su un veicolo più grande, cioè sul camion, e così via. Ora prendiamo il nostro quaderno, scriviamo la data, 26 marzo 2020. Il numero 26 è formato da due cifre, della cifra 2, che sono le decine, e della cifra 6, che sono le unità. Il numero 2020 è formato da quattro cifre, della cifra 2, la cifra 0, la cifra 2 e la cifra 0. Questi 2 sono le decine e questo 0 sono le unità. Scriviamo il giorno della settimana, giovedì. Poi scriviamo 26 in letterine, con le letterine 20 in rosso e 6 in blu. 20, perché in rosso? Perché 20 forma due decine. 6 sono le unità. Saltiamo due quadretti in verticale e poi ne contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 in orizzontale. Costruiamo questa tabella. Sono 6 quadretti in orizzontale e 8 in verticale. 6 ancora in orizzontale e 8 in verticale. Partiamo da qui, contiamo due e una linea orizzontale. Altri due e un'altra linea orizzontale. Altri due e un'altra linea orizzontale. Altri due e un'altra linea orizzontale. Ritorniamo su. 1, 2, 3. E una linea verticale. Così dividiamo la tabella in due parti. Allora, prima cella si chiama... Disegniamo il quadratino rosso. Quello del pastore inventore. In questa cella invece andiamo a disegnare un pallino blu. Quello sempre del pastore inventore. Sotto questo quadratino rosso scriviamo camion. I nostri belli camion carichi di 10 automobili ciascuno. E poi qui accanto scriviamo auto e le auto sciolte. Qui sotto andiamo a scrivere da, che sta per decina, e u, che sta per unità. Il nostro numero 26 è formato da due decine, cioè due camion carichi di 20 automobili, oppure due quadratini rossi con 20 pecorelle. E poi è formato da 6 unità. 6 unità, che sono 6 auto sciolte o 6 pallini blu. Ora, chi vuole, può disegnare questa meravigliosa cornicetta. Ecco cosa andremo a fare sul nostro quaderno. Attenti! Voi poi, sulla pagina del quaderno, scriverete solo la consegna e i numeri con gli archetti 1, 2 e 3. E poi dovrete rispondere sul quaderno. Vedete questa linea rossa? Ecco, non rispondete qui, ma sul vostro quaderno. Quello che dovreste scrivere qui, lo scriverete sul quaderno. Qui e qui. Leggiamo la consegna. Fai circolare i veicoli nel paese del 10. Al bisogno, cioè se hai bisogno, aiutati con i camion e le auto costruite da te o che hai ritagliato. Esempio. Nel paese del 10 sono entrate 31 automobili. Quanti veicoli circolano? In questo paese stanno circolando 3 camion e 1 auto sciolta. 31 sono 3 camion e 1 auto sciolta. Andiamo avanti. 1. Con l'archetto. Nel paese del 10 sono entrate 10 automobili. Quanti veicoli circolano? E voi dovete contare quante automobili sciolte se ci sono, quanti camion e qui. Dovete scriverlo, anzi meglio, lo scriverete sul quaderno. Adesso vi spiego come sarà la vostra pagina di quaderno. Ecco. Scriverete solo la consegna col semaforo rosso. Fai circolare i veicoli nel paese del 10 e 1 con l'archetto. Quello che dovevate scrivere qui, lo scrivete di qua. Qui, qui e qui. Un'altra consegna. Nel paese del 10 circolano. Esempio. Un camion. Quante auto in tutto? 10. Uno con l'archetto, due camion. Quante auto in tutto? Quello che dovreste scrivere qua, lo scrivete sul quaderno. E qui dovete dire quante sono in tutto le auto. Ecco, adesso vi mostro. Nel paese del 10 circolano la vostra consegna che scriverete di nuovo. Poi uno con l'archetto. E qui rispondete. Due. Rispondi alle domande. Ecco una bella tabella. Il numero 24 qua. Il numero 20 e il numero 36. Quanti camion? Allora, il numero 24. Quanti camion sono? Due. Il numero 24. Quante auto sciolte? Quattro. Sempre guardando il numero 24. Quante auto in tutto? 24. Perché 24? Perché 20 sono caricati sui due camion. E 4 sono sciolte. Numero 20. Quanti camion? E qui rispondete. Quante auto sciolte? E qui rispondete. Anzi, non lo vi spiegherò. Non scrivete qua sui puntini. Non andrete a scrivere sul vostro quaderno. Ecco, adesso vi mostro. Consegna. Rispondi alle domande. Uno. E qui, dove c'erano i puntini prima sulla fotocopia. Ecco. Non scrivete qua, ma scrivete qui accanto. Due. Qui ci dovrebbero essere i puntini, come sulla fotocopia. Non rispondete qua, ma rispondete di qua. Bene, bambini. Mi raccomando, fate bene queste attività. Ripassate molto bene i video con i giochi e anche le storie. E continuate a giocare molto. Un abbraccio forte dalla vostra maestra Mara. Ciao!